L'archivo mai... Cielo sereno, sole splendente sulle coste. Potremmo andare in costiera amalfitana? Sì! Beh, ma così all'ultimo minuto sarà impossibile trovare un hotel a buon prezzo. Impossibile? Permette? Fate come me. Usate Trivago. Basta digitare la destinazione, scegliere l'hotel, il B&B o il tipo di struttura che preferite. E Trivago confronterà per voi le offerte di centinaia di siti. Quante offerte! E ci sono tanti prezzi per tanti hotel. Così possiamo scegliere l'occasione migliore per noi? Ma... Hotel Trivago Arriva Ambipur Bagno! Lo sapevi che quando tiri lo sciacquone i cattivi odori si depositano sulle superfici? Poi vengono rilasciati nell'aria e li senti anche dopo. Premi il bottone per attivarlo e ci pensa lui. Combatte i cattivi odori dispersi nell'aria ed evita che si depositino sulle superfici. Fino a 50 giorni. Ambipur. Respira felice. Italia 1! Quest'estate continua a viaggiare con il cuore e con la mente. Fra luoghi meravigliosi, storie appassionanti, leggende e miti nascosti nel nostro immaginario e lungo le frontiere della scienza. Insieme a... ...mercoledì, in prima serata, su Italia 1. Dal gusto unico di Kinder Cioccolato, nasce Kinder Cioccolato Ice Cream, un cremoso gelato al latte, ricoperto dalla bontà Kinder. Nuovo Kinder Cioccolato Ice Cream, il loro piccolo, grande gelato. Per accompagnare il ritmo naturale della sua crescita, Umana ha sviluppato... ...la formula di Umana 2 con l'HMO2'FL, un oligosaccaride naturalmente presente nel latte materno. Umana, per crescere secondo natura. Come i veri amici si prendono cura di te, anche Enterogermina si prende cura del tuo intestino. È l'unico con quattro ceppi diversi di Bacillus clausi per prevenire e curare l'alterazione della flora batterica. Enterogermina! Quando senti la pancia gonfia, pensi che tutti se ne accorgano. Per questo c'è Enterogermina gonfiore, contro le cause del gonfiore grazie a ingredienti specifici, per un'azione rapida e prolungata. Non c'era una volta un sugo fresco alla norma, meraviglioso anche per una bruschetta. Ma adesso c'è! Nuovi sughi freschi Giovanni Rana, il gusto che non c'era una volta. Sono proprio una favola! Oh no, cos'è successo qui? Esperti, chi di voi può aiutarci? Io rimuovo i cattivi odori, io anche le macchie. Io proteggo dal trasferimento dei colori. Usa Vanish, un tappo ad ogni lavaggio. Rimuove le macchie anche a 20 gradi. Ed evita il trasferimento dei colori. Wow! Vanish, i tuoi capi più a lungo. Wow! Ma hai un segreto? Zero! Io bevo tè San Benedetto zero. Zero zuccheri, zero calorie. Zero pensieri. San Benedetto. My secret. Non c'è niente di più bello che vivere in una casa che si ama. Ad agosto sconti fino al 50% su pavimenti e rivestimenti. Iperceramica, vieni a innamorarti di casa tua. E con Ristruttura Smart, ogni ristrutturazione è una casa meravigliosa. Non possiamo descrivere i suoni, l'adrenalina, il batticuore, il sapore di una risata sincera. Ma possiamo fartelo scoprire. C'è più vita nella vita vera. Flixbus. Pringles, il gusto che ti prende. Fenomeno! No, ha solo dormito meglio. Con Ziquil Natura, pastiglie gommose per il sonno come l'atunina e i destratti botanici, dormi come Natura comanda. Ziquil Natura. Signor Ministro! Bentornato, signor Cevoli. Veramente maestro. Ascolta, il mio cognato ha bisogno di un divano di ultima generazione. Beh, ce lo suota tutto. Con gli ultimi pezzi in pronta consegna a partire da 99 euro. Ma è un prezzo modicissimo. Bravo maestro! Poltoreso fa, solo divani di qualità. Valà, valà. Attenzione, perché alle Iene presentano Inside, ripercorreremo 25 anni di comicità del nostro programma. Con Lilio e Greg, Luca e Paolo, Pio Medeo, Fabio Volo, Fred Matano, Pif, Vicky, Erico Lucci, il Trio Medusa, insomma tutti. Oh, ti aspetto. Le Iene presentano Inside. Martedì 15 agosto, in prima serata. Arrivo! Io porto venere. Porta venere. Pasta venere. Sarà la vostra pasta preferita. Ha davvero un gusto ed un colore unico. Scopri il nuovo gusto della pasta. Dottor Scotti. Buona idea, pasta venere. Dottor Scotti. Ciao! 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 Grazie.